Presente anche il sindaco della città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, sempre molto attento alle questioni che riguardano i borghi. Indirizzare una strategia di valorizzazione che fa unito il nostro territorio e consente anche in uno scenario pure abbastanza ristretto di offrire un mare monti che ha delle caratteristiche che fanno la differenza rispetto ad altri territori. Quindi una strategia di sviluppo locale sicuramente vincente ed è fondamentale che i palazzi municipali da questo punto di vista facciano realmente una strategia complessiva anche in termini di servizi. Mi viene in mente Anthony Gaudì che da questo punto di vista proprio faceva l'appello a quella che è l'essere originale, cioè tornare alle origini. Quindi il profilo identitario del territorio oggi rinnovato in quelle che sono ovviamente le nuove strategie di comunicazione ma che nello stesso tempo comunque mettono in luce quelle che sono prodotte caratteristiche che sono collegate concretamente al territorio. Quindi il territorio diventa anche da questo punto di vista una vetrina unica nella quale usufruire e gustare quei sapori che diversamente non si avrebbe modo di gustare. E sulle elezioni regionali del 2022? Non credo sia due perché ci annoieremmo io e musumeci, credo. La sfida riguarderà molti più candidati, sarà un corpo a corpo interessante e questa sicuramente è una competizione dove vince chi sa fare la campagna elettorale. Grazie a tutti.